Il maltempo di queste ore inizia a causare i primi danni. Verbi Caro, tra i paesi più colpiti dell'entroterra dell'alto terreno cosentino, dove questa mattina si è sfiorata la tragedia a causa del crollo di una strada in pieno centro cittadino. Un sifonamento ha provocato un'inondazione con la rottura in superficie di un tratto di via ravita. Fortunatamente al momento del cedimento non transitavano auto, ma pochi istanti prima, raccontano alcuni testimoni, era passato un camion. Pur trattandosi di una strada secondaria, infatti via ravita, essendo vicina al centro abitato, è molto trafficata anche per la sua adiacenza ad un parcheggio. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile, la strada è stata immediatamente chiusa alla circolazione. Ma non è l'unico problema causato dal maltempo. In un'altra zona del paesino montano, una frana ha ostruito un canale e lo ha fatto esondare provocando allagamenti in piazza del Gesù Maestro. È una situazione davvero drammatica, ha commentato il sindaco Felice Spingola. Se non smette di piovere le cose potrebbero addirittura peggiorare, visto che tutti i canali sono al massimo della loro portata e potrebbero esondare da un momento all'altro. Il primo cittadino si è detto seriamente preoccupato, poiché anche lungo la strada provinciale che porta a Verbicaro si sono verificati una serie di smottamenti. Problemi anche lungo la valle del fiume Abbatemarco. Le piogge abbondanti delle ultime ore hanno ingrossato il corso d'acqua che straripando ha letteralmente distrutto la strada che conduce all'acquedotto gestito dalla Sorical. La zona, lo ricordiamo, era già stata colpita dal maltempo dello scorso aprile 2012. Anche in quel caso la pioggia aveva provocato grossi danni. Le previsioni meteo purtroppo non sono confortanti. Il maltempo infatti potrebbe addirittura peggiorare. Anche per domani si prevedono piogge a carattere temporalesco, venti forti e mareggiate lungo le coste, con un brusco calo delle temperature e nevicate a bassa quota.